I gruppi organizzati della Curva Angelo Boscaglia, che rappresentano il movimento ultra della città di Gela, con una nota inviata alla stampa, intervengono sulla vicenda relativa all'affidamento e ai mancati lavori di messa a regola dello stadio Vincenzo Presti. Ci troviamo dinanzi all'ennesimo comportamento volto a calpestare la dignità di una società che in quest'ultimo anno ha raggiunto un obiettivo non indifferente sia per noi sia per l'intera comunità, la Serie D in cinque anni dopo essere ripartita dall'ultima serie, leggiamo nel documento, una società che grazie al lavoro di molti oggi rappresenta un'eccellenza del calcio siciliano e non che sinonimo di serietà, competenza e che sempre con non poca fatica ha raggiunto gli obiettivi che essa stessa si è fissata. Una società però che non trova nell'istituzione alcun ausilio, alcun sostentamento, anche il più ovvio, come l'affidamento dello stadio, base per poter sempre più costruire radici forti e affermarsi in maniera decisa nella realtà professionistica del calcio giocato o più banalmente la semplice messa in regola di un impianto fatiscente che fine ieri andava bene per le categorie che abbiamo vinto negli anni ma che allo stato attuale ci vedrebbe costretti a migrare lontani da casa. Ad oggi il gelacalcio rappresenta l'unica e sola realtà in grado di portare il nome e il vessillo di gela oltre lo stretto, tenendo sempre alto l'onore e la gloria che è insito nella storia della nostra città. Non riusciamo a spiegarci, leggiamo ancora nel documento, perché ogni qualvolta si mira a una miglioria c'è sempre qualche disfattista che non vuole che il gelacalcio sopravviva. Ne siamo testimoni anche dopo le dimissioni del presidente Tuccio, chiare e precise che non fanno altro che confermare quanto si lotti e ci si applichi affinché la realtà del gelacalcio venga soppressa, facendo persino scoppiare colui che ha dato tutto affinché potessimo vedere il gelacalcio nella nostra città ai livelli che ad essa competono. Non far crescere realtà sportive sane come quella del gelacalcio è un affronto alla crescita e allo sviluppo della nostra città. È da anni che a gran voce chiediamo luoghi più decenti, donnei per goderci le partite ed esprimere al massimo l'amore per la maglia della nostra città. Da anni che chiediamo una ristrutturazione della stessa boscaglia, vedendo da un lato la completa e assordante inerzia delle varie amministrazioni, brave solo a promettere, dall'altro una società che ci è sempre stata vicina, inerme con l'incredibile situazione in cui riversa l'intero impianto. Metteremo in campo tutte le nostre forze affinché il gelacalcio possa continuare ad essere una nota positiva in mezzo ad un concerto stonato, scrivono ancora i responsabili della curva, affinché il gelacalcio sia ancora una volta orgoglio della città, affinché anche noi possiamo continuare a vivere i nostri momenti di passione e di amore incondizionato per la nostra città. Ad Angelo Tuccio va tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno, gli chiediamo pubblicamente di ritornare sui propri passi semplicemente perché sarebbe una sconfitta proprio adesso, nell'anno del decennale della sua gestione. Sarebbe una sconfitta, sarebbe l'ennesimo fallimento di un'intera città, conclude il direttivo curva Angelo Boscaglia.